Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su un nuovo video. Oggi le news della settimana come sempre di domenica mattina. Pochi giorni fa, il 15 maggio, si è svolta presso il Museo Ghibli, una cerimonia che ha voluto rendere omaggio al grandissimo maestro Isao Takata, recentemente scomparso. Per me il più grande regista di animazione giapponese che ci sia mai stato. Personalmente adoro davvero il lavoro di questo regista che ci ha regalato delle perle ben superiori a mio avviso di quelle che era il suo grande amico, Hayao Miyazaki. Miyazaki stesso, cofondatore dello studio Ghibli insieme a Isao Takata, è apparso infatti visibilmente commosso durante questa cerimonia e ha voluto ricordare con queste parole il maestro Takata. L'ho incontrato nel 1963, mentre aspettava l'autobus. Lui aveva 27 anni, mentre io avevo appena 22 anni. Pensavo fosse una persona molto interessante ed intelligente. Lo ricordo come se fosse successo ieri. Pochi giorni dopo la scomparsa del grande maestro, i giornali giapponesi avevano riportato di come per Miyazaki questa perdita fosse stata un grandissimo shock. Tra i partecipanti a questa commemorazione ci sono stati il produttore famosissimo e storico dello studio Ghibli, Toshio Suzuki, le attrici Nobuko Miyamoto, doppiatrice nella Principessa Splendente, Keiko Takeshita, doppiatrice in Arrieti e si alza il vento, e il regista Yoji Yamada, Kimi ni Tedoke e Summer Wars. Il sesto numero della rivista Shonen Magazine Edge della Kodansha non solo ha ospitato il debutto della nuova serie Shaman King The Superstar del maestro Hiroyuki Takei, ma ha anche comunicato le ultime informazioni sullo spin-off di questo manga, ma ha anche comunicato le ultime informazioni sullo spin-off della saga. Lo spin-off si intitolerà Shaman King Aiden Red Crimson e sarà disegnato da un esordiente, Jet Kusamura. La serializzazione di quest'opera inizierà il 16 giugno sulle pagine del settimo volume di Shonen Magazine Edge e sarà una storia incentrata sul personaggio di Tao Jun. Il numero 25 di Weekly Shonen Sunday ha annunciato che il nuovo capitolo della serie Silver Spoon, Gin no Sagi, il cucchiaio d'argento di Romo Rakao, verrà pubblicato il 23 maggio all'interno del numero 26 della rivista. L'opera è iniziata nel 2011 ed è stata anche trasposta in due serie animate in un film live action ed era ferma dal luglio del 2017. Al momento sono usciti 14 volumetti Tankumon e la conclusione dovrebbe essere vicina. L'autore Iromashima, fresco dalla conclusione del celeberrimo Fairy Tail, finito lo scorso luglio 2017, sembra voler comunicare ai fan attraverso i suoi messaggi su Twitter che oltre ad un nuovo manga fantasy allo spin-off sequel di Fairy Tail ci sarà anche una terza serie manga misteriosa. Infatti l'autore su Twitter ha dichiarato che sta lavorando ad un nuovo progetto segreto ma che il tutto sta prendendo una piaga un po' confusionaria in quanto sta conducendo i suoi lavori insieme al già complicato cantiere che porterà alla costruzione della sua inedita opera principale e allo spin-off di Fairy Tail sul quale c'è molto mistero. L'autore ha comunque specificato che tante idee stanno emergendo incessantemente quindi sono molte le incertezze, i dubbi però anche la curiosità che abbiamo su Iromashima per quanto riguarda quello che sappiamo riguardo al futuro di Iromashima e Fairy Tail vi ricordo le novità di cui abbiamo già parlato nelle news precedenti ovvero che la storia di questo nuovo manga di Iromashima non avrà nulla a che vedere con Fairy Tail ma sarà una nuova concezione del fantasy inizierà il 27 giugno col numero 30 di Willy Shonen Magazine e il maestro per ora ha rivelato alcuni bozzetti. Per quanto riguarda invece lo spin-off sequel di Fairy Tail Mashima si occuperà degli storyboard delle bozze e della sceneggiatura ma ancora non conosciamo il nome del disegnatore questo sequel sarà direttamente collegato con l'ultimo capitolo del manga originale il 545esimo e si focalizzerà sul presente di Fairy Tail mentre la stagione finale della serie animata televisiva tratta da Fairy Tail andrà in onda in Giappone a partire dall'autunno del 2018. Il sito web ufficiale della rivista Morning della Kodansha annuncia che il manga Sells at Work Lavori in Corpo di Akane Shimizu che è pubblicato anche in Italia da Star Comics godrà di un terzo spin-off dopo Ataraku Saikin di Haruyoki Kishida in corso su Nakayoshi dall'aprilo 2017 e Atarakanai Saibo di Moe Sugimoto pubblicato su Shonen Series dal luglio 2017. Il nuovo spin-off si intitolerà Ataraku Saibo Black e debutterà sul cartaceo Morning e sul sito web Weekly di The Morning il 7 giugno con il primo volumetto a Tankomon previsto per il 7 luglio. È scritto da Shigemitsu Arada conosciuto per Yuria Type 100 e disegnato da Issei Atsuyoshi il tutto con la supervisione della Shimizu. Questo spin-off seguirà il lavoro dei globuli all'interno del corpo di un uomo stressato che soffre di colesterolo mangia e beve troppo e fa poca attività fisica. Praticamente il ritratto della salute è pure il mio. Buron Son il famosissimo mangaka autore di Ken il Guerriero ha partecipato alla cerimonia di apertura di una nuova accademia manga nella sua città natale di Saku nella prefettura di Nagano lo scorso 15 aprile. Questo programma soprannominato Buron Son 100 Hour Manga Academy si tiene presso il Saku Daira Community Center. Un totale di 31 studenti tra ragazzi e giovani adulti si sono iscritti a corsi all'inseguimento dei propri sogni. Gli studenti frequentano un totale di 100 ore di istruzione distribuite tra 20 lezioni durante tutto l'anno. Le lezioni sono completamente gratuite e gli studenti possono imparare le nozioni da alcuni dei migliori artisti scrittori ed editori. Più di 100 candidati hanno fatto domanda per il programma la classe inaugurale ha 17 donne e 14 uomini provenienti da Kanagao e Saitama. Ogni studente ha una diversa esperienza con i neofiti che si mescolano con mangaka che hanno goduto di pubblicazioni. Durante la cerimonia d'apertura Buron Son ha detto facciamo del nostro meglio insieme. Anche il sindaco della città ha inviato un messaggio di congratulazione agli studenti con una citazione da Kenny il guerriero voglio che facciate le vostre 100 ore in modo che possiate dire non ho rimpianti nella mia vita. di Mitsuru Adachi chiamato con altri artisti manga per il primo ciclo di conferenze. La DC Comics ha finalmente annunciato i disegnatori che lavoreranno alla serie di spin-off dedicati al Sandman Universe annunciata qualche tempo fa. Oltre a Bill Quix-Evely il disegnatore di Sandman Universe numero 1 non erano stati annunciati altri artisti. Con un comunicato stampa veniamo a sapere altri nomi coinvolti nel progetto Dominic Stanton Max Fiumara Sebastian Fiumara e Tom Fowler. Si uniscono tutte l'etichetta Sandman Universe insieme a Evely che disegnerà anche The Dreaming. E vi mostro appunto alcune immagini tratte da questa serie diffuse da DC Comics tra cui La storia di Dreaming scritta da C. Spurrier e disegnata da Bill Quix-Evely House of Whispers scritto da Nala Hopkins e disegnato da Dominic Stanton Lucifer scritta da Dan Waters e disegnato da Max e Sebastian Fiumara Books of Magic scritto da Cat Howard e disegnato da Tom Fowler e il già citato Sandman Universe 1 soggetto dello stesso Neil Gaiman scritto dagli autori sopra citati e disegnato da Bill Quix-Evely con copertina di Jay Lee non ci sono solamente nuovi progetti teatrali e affumetti per Galaxy Express 999 l'epopea di Tetsuro e Metal concepita nella seconda metà degli anni 70 dal maestro Leji Matsumoto autore di Capitan Harlock tra gli altri anche primo ospita annunciato per la prossima Lucca Comics and Games godrà per la prima volta di una serie tv dal vivo che debutterà il 18 giugno alle 20 sulla rete giapponese BS Sky Perfect questa nuova serie però sarà molto particolare si tratta infatti sì di una produzione con attori in carne e ossa ma trasmessa in diretta e che farà uso di effetti speciali in computer grafica è accompagnata da un talk show di 30 minuti presentato da Akinori Nakagawa attore che interpreterà Tetsuro nello spettacolo teatrale Galaxy Tetsudo 999 Galaxy Opera previsto per giugno e luglio a Tokyo e Osaka Chiaki Kuriyama Battaroyal Kill Bill veste i panni di Metal mentre Ushiro Maeda del duo comico Maeda Maeda presta il volto a Tetsuro altri membri del cast includono Kaname Ouki Toshiyuki Someia Jun Hashimoto e Takashi Ukaji attraverso le prime informazioni apparsi in rete del numero di luglio 2018 di V-Jump rivista di Shueisha disponibile per l'acquisto in Giappone da sabato 21 maggio apprendiamo che un nuovo progetto animato legato al franchise Dragon Ball è stato confermato e sarà il progetto di Super Dragon Ball Heroes che appunto da videogioco diventerà ufficialmente un anime promozionale precisamente il progetto sarà ispirato e promoverà quindi non sappiamo ancora che tipo di anime sarà perché non c'è l'ufficialità di una vera e propria serie al videogioco giapponese arcade omonimo che tra i tanti scenari fantastici e inediti comprende degli scontri che gli appassionati potrebbero soltanto immaginare in merito ai dettagli di cui siamo a conoscenza l'anime per ora trasporrà solamente un arco narrativo del videogioco ovvero il primo Universe Mission Prison Planet non sappiamo quando debutterà in televisione nella data ufficiale di trasmissione né il numero eventuale di episodi tuttavia quel che si sa è che la premiere del primo episodio di questo Super Dragon Ball Heroes sarà mostrata il primo luglio 2018 in quel di Ion Lake Town in Giappone di trasmissione di trasmissione queste erano le news della settimana fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto se il video vi è piaciuto lasciate un like per aiutare il canale, condividetelo, iscrivetevi attivando sempre le notifiche noi ci vediamo alla prossima e ciao grazie